Questa mattina il sindaco Elpidio Russo, accompagnato dagli assessori Giuseppe Ianiello, Marianna Falacia e dal consigliere Marco Di Blasio, ha partecipato alla tradizionale festa dell'albero nei cortili delle scuole dell'Istituto Comprensivo Moro Pascoli di Casagiove. Oggi è la festa degli anni, giustamente come avete cantato voi, è un giorno speciale, infatti è uscito anche su Bernalberto. Perché oggi noi festeggiamo, celebriamo questa festa degli alberi che dobbiamo considerare dei nostri amici. Quindi noi e specialmente voi, noi dobbiamo cercare di evitare a rispettare la natura così come avete sempre fatto, lo state facendo e lo dovete sempre fare. Ad accoglierli c'erano i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria di Casagiove. In occasione della giornata nazionale degli alberi, tema scelto da Lega Ambiente per questa edizione, l'abbraccio. I bimbi a fine mattinata sono stati infatti invitati dagli insegnanti ad abbracciare gli alberi, fonte di vita, di biodiversità, polmone del nostro pianeta. La festa dell'albero si è svolta nell'anniversario della dichiarazione internazionale dei diritti dell'infanzia. Il cortile è l'aula più importante che abbiamo, ha sottolineato il primo cittadino in apertura. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dottoressa Teresa Luongo, che ha sottolineato la manifestazione legata ai temi della salvaguardia ambientale e della diffusione dei valori della solidarietà, bensì coniuga con il percorso scolastico ed educativo dei ragazzi. Come scuola siamo fieri di collaborare con progetti di tale importanza. Durante la manifestazione gli alunni, grazie all'ausilio degli insegnanti, hanno presentato dei propri lavori. E questo alberetto lo dedichiamo a tutti i nostri fratelli stranieri. Presenti tra gli altri Vincenzo D'Angelo e Renata Vigliotti, referenti del Centro Educazione Ambientale e dottor Pier Claudio Dierna, vicepresidente e responsabile per il sud Italia dell'Associazione Italiana Scienze Ambiente. Importante ricorrenza che ribadisce la necessità di salvaguardare i diritti dei bambini di tutto il mondo. Crescere in un ambiente sano ed accogliente è sicuramente uno dei tanti diritti dei bambini di oggi, cittadini di domani. Uno, due, tre! Un'altra! 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 Un'altra!